Escono i led, lo starter! Partiti! E' in vantaggio Bastien davanti a Zulu King, Kecek, Holy Ballet, Spinango e Imago Life. Dopo 200 metri di corsa conduce Bastien davanti a Zulu King, Kecek, Spinango, Holy Ballet e Imago Life. Prosegue in vantaggio Bastien davanti a Zulu King, Kecek, Spinango, Imago Life e Holy Ballet. All'inizio della curva è sempre in vantaggio Bastien davanti a Zulu King, Kecek, Imago Life, Spinango e Holy Ballet. Poco prima dell'ingresso in dirittura, posizioni invariate con Bastien in vantaggio davanti a Zulu King, Kecek e Imago Life. I cavalli entrano in dirittura con Bastien in leggero vantaggio davanti a Zulu King, Kecek, Imago Life, Spinango e Holy Ballet. E' sempre in leggero vantaggio Bastien attaccato all'interno da Zulu King, a centro pista a Kecek, per lì in interno è Holy Ballet. Passa Kecek davanti a Holy Ballet, Zulu King e Bastien. Passa Holy Ballet davanti a Kecek, Zulu King e Imago Life, fa in vantaggio a Holy Ballet davanti a Zulu King. Come da pronostico caro Alessandro, ma la prima sottolineatura è una sola, una monta strepitosa, quella di Davide Satalia, veramente strepitosa. Guarda che è raro ai nostri tempi vedere qualcuno che filtra in questo modo all'interno con tanta sicurezza. e tiene a bada un buon Kecek che è lui, è lui e quindi il risultato è quello giusto. Allora la quota era grassa.